ok ragazzi e ragazzi vai si continua sul tele software seria non so da che parte andare vi dico la verità vediamo un po allora la taverna lì bisogna andare vediamo un po la mappa così ok ragazzi bisogna andare tutto dritto per dritto qui perfetto allora andiamo magari qualche scontro possiamo anche farlo sarebbe anche giusto farlo qualche scontro va bene ok ecco qui si combatte si combatte ragazzi beh non si può fare altrimenti che combattere ok ok fanno anche le super qui quindi diciamo che va bene così diciamo che va benissimo così allora allora vediamo un po vediamo un po il da farsi qui vediamo un po il da farsi ok ok perfetto perfetto andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti qui con la speranza di non tornare dietro allora vabbè una piccola battutina così ragazzi dai il vostro brado sapete che ogni tanto deve dir la sua no ma giusto ogni tanto ragazzi allora allora vediamo un po si ok bisogna andare qui bisogna andare qui quindi andiamo dritto per dritto beh questo lo affrontiamo questo lo affrontiamo ragazzi incontro favorevole attenzione attenzione qui incontro favorevole quindi va benissimo ecco perfetto 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 vabbè questo qui non lo affrontiamo dai a meno che non ci becca lui ma non credo non credo quindi possiamo entrare qui per vedere un po cosa c'è da fare qui con la storia no ma soprattutto ragazzi allora alla taverna bisogna andare alla taverna bisogna trovarla ma sarà qui ragazzi si credo proprio di si quindi però bisogna andare nell'altra zona andiamo nell'altra zona e vediamo un po' il da farsi si si ragazzi la strada è qui la strada è qui siamo riusciti in questa impresa poi dentro la taverna giustamente ci sarà il punto che ci indica che la missione è giusta ecco allora e infatti come si può ben vedere è come è come dico io allora 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 andiamo qui uhlala ci aspettano qui va bene ok cerca un uomo scomparso va bene lago gallex vabbè accettiamo bisogna farlo ragazzi quindi che Ok Allora vediamo un po' da che parte bisogna andare Vediamo un po' qui dov'è Allora Lungo la via del lago Lago Gallex Eh bisogna vedere Dove è questo lago Gallex Qui ragazzi perché Allora secondo me Qui dobbiamo Non so magari Riusciamo fuori Non so da che lato Non so da che lato andare Quindi riusciamo da qui ragazzi Mettiamoci a mappa insomma Tutta aperta E vediamo un po' se riusciamo A trovare la nostra stradina Man mano eh Vediamo un po' Vediamo un po' Allora andiamo qui Andiamo qui Ok ok Va benissimo Va benissimo Va benissimo così Allora il lago Gallex Vediamo un po' Eh ragazzi il problema è che Dove è il lago Gallex È qui Un po' di trovarlo in questo modo Allora Allora mi sono rincoglionito Io ragazzi Vabbè Vabbè Allora Facciamo che Andiamo in queste due nuove zone Dai E vediamo se magari è lì Oppure no Addirittura incontro Andisco qui Addirittura ragazzi Come mai No 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 Come mai Vorrei capire il perché Vorrei sapere anche il perché Va bene Va benissimo comunque Cercherò di capirlo Cercherò di capirlo E sì Dai Vediamo un po' Vediamo un po' Qui dai Vediamo Cerchiamo un po' di vedere Sì vabbè Ma Ah ok Mi stanno Ok Va bene così Va bene così Va benissimo così Va benissimo così ragazzi Ok ho ripreso un po' Di energia Quindi Possiamo proseguire avanti Insomma Dai No No Ancora Incontro rischioso Ma dai Aia Qui ragazzi ci possono far male Qui ci possono far veramente male Dobbiamo stare un po' attenti Ecco Dobbiamo stare abbastanza attenti Quindi Ok Ok Va benissimo così Va benissimo così Dai che va tutto bene Va tutto bene Allora Ragazzi Ora Proveremo A scoprire Dov'è questo lago Perché io sinceramente Ora non lo so Quindi inutile che Allora Andiamo prima a destra Poi magari Cosa succede Forse qui Oh Grazie a tutti Grazie a tutti Cosa va a vedere il vostro brado ragazzi Il forseire da aprire vabbè La follia ragazzi La follia ma Altrimenti non sarei brado quindi Ok Allora Allora Io non so ora se andare Da quella parte o meno Ma Sinceramente non vorrei rischiare Vi dico come stanno le cose Allora Poi sinceramente A noi ci interessa Ullala ragazzi Forse ho scoperto la strada qui Ma Ehi dico allora vediamo un po' eh Ah poi devo sconfiggere Anche il demone Però Diciamo che ho trovato la strada Giusta Poi il demone Si può anche fare Insomma Ragazzi eh Non è che non lo faremo Non so se so Se ho la potenza giusta Per affrontarlo Questo non posso saperlo Però Ci si può comunque provare Non so se in questo gameplay O più avanti Però Ci possiamo comunque provare Dai Dai vediamo Vediamo un po' Vediamo Ottimo così Ottimo così Va benissimo ragazzi Non vi preoccupate Perché va benissimo Allora No Cerco di evitare questo scontro Ma ora andremo avanti Voi non vi preoccupate Cercheremo di far tutto Come si dice Per il meglio Ecco Per il meglio Come cerco di far sempre io Allora Vabbè Ecco bisogna Eh ragazzi Sapevo che devo andare così qui Lo sapevo io Vabbè Sono geniale Punto Cioè non è Ecco Ok Fantastico Il problema ora E da che parte andiamo Andiamo giù ragazzi Andiamo giù Perché Andiamo giù Perché a direzione Sembrerebbe che bisogna andare giù Per fare tutto Per bene Ecco Fantastico Fantastico ragazzi Questo gioco sempre più bello Sempre più bello Sempre più bello In uso di dir il contrario Ma è sempre più bello Ok Vediamo un po' Si Dettagli poi Li vediamo dopo I dettagli 109 109 ragazzi Attenzione Bisogna combattere anche qui E bisogna combattere anche qui E bisogna combattere Direi proprio di sì Direi proprio di sì Ce la facciamo Speriamo 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 dai Posso comunque farcela Posso comunque farcela Allora Vediamo un po' Non vedo forzieri Per il momento In questa zona E qui ragazzi Bisogna raccogliere tutti Vedete qui Vabbè Va bene così Va bene così Allora Andiamo di Sì andiamo di qua Andiamo di qua Ecco Però stavo sbagliando Perché bisogna andare comunque di qua Vabbè ragazzi Può succedere Non vi preoccupate Vediamo se la strada giusta Sarà questa Perché Allora Però poi lì E' un po' Un casino E' un po' Un casino ragazzi Ma comunque Bisogna comunque Farlo qui Bisogna comunque Provarci Ecco E là Ok Io cerco di impegnarmi Ragazzi Poi ognuno Può pensare Quello che vuole Sì andiamo Sì andiamo da questa parte Perché sicuramente Ci sarà qualcosa di buono Credo E infatti Io vedo un forsiere Vedo un forsiere Ma anche E vabbè Qui ragazzi Per livellare Sarebbe veramente L'ideale Qui per livellare Sarebbe il top E vabbè Va bene Va bene Va bene in questo modo Va bene in questo modo Va bene in questo modo Va benissimo Ma sì Dai Ma sì Posso farcela Spero di sì Ragazzi Ok 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 Ci siamo Ci siamo Allora Qui Devo prendere Questo forsiere Perché Devo prenderlo E basta Non ci sono altre Storie Ecco Anello dell'acqua Ok Allora Allora Solo che giustamente La strada da fare Non è questa Ma Avevo già intuito Che era La strada Non era questa Insomma Però Torniamo dietro Qui Torniamo dietro Torniamo dietro Vladone Su Ora il problema Eh ragazzi È un problema Da che parte Vado Ora Gireremo tutto Non vi preoccupate Ecco Ora qui Quanti me ne chiedi Ah 75 Si mantiene basso Si mantiene basso Si mantiene basso E sì Ok Si mantiene basso Lì Ok Ok Allora Andiamo qui No ragazzi Il gioco è superbo È superbo Il gioco Il gioco è Un qualcosa Di stratosferico Bellissimo Cioè Eccola Qui c'è un problema Qui non si può andare E purtroppo Questo è un problema Ragazzi Che magari voi dite Ma perché È un problema Quindi a questo punto Io arrivato qui dietro E vedete ragazzi Qui per trovare La strada È un po' complessa È un po' complessa Ragazzi Non è che uno va E fa tutto subito Insomma Non è così Non è così Ok Possiamo farcela Spero Voglio ben sperare Fatto Fatto Perfetto No no Cerco di evitare Questo scontro Non per qualcosa Ragazzi Ma sempre Per la solita Motivazione Di Magari Di cercare Di trovare La strada Quindi Andiamo Su Andiamo su Io credevo Che forse Era giù La strada Invece Forse bisogna Andarli in alto E E poi Far tutto il giro Perché a volte Inganna un po' La mappa Ragazzi È Su questi giochi Dovete stare un po' Sempre attenti Vabbè Vediamo un po' Di riuscire Nell'impresa Perché comunque Sarà un'impresa Ora Trovare la strada Ragazzi Ma Credo proprio Che la La troveremo Dai La troveremo Allora Allora Ora Qui c'è qualcosa Che vabbè Non posso Sono in battaglia Non posso vedere Sono in battaglia Ragazzi Ebbè Vediamo un po' Vediamo un po' Qui eh Posso farcela Credo proprio Di sì Credo proprio Di sì Credo proprio Che posso farcela Eccomi qui Ragazzi A posto Sono riuscito Un po' A fortuna Vabbè Allora Vediamo un po' Qui Ok Qui bisogna combattere Ragazzi Qui bisogna combattere Bisogna combattere Sì Bisogna combattere In questo modo Ok Fatto questo Fatto questo Ok Da che parte Andiamo Andiamo da questa parte Qui Ma sì Tanto Tutto uno scontro È tutto uno scontro Qui ragazzi È tutto uno scontro Cercherò di combattere Cercherò di combattere Voi Cercherò di vincere La battaglia Soprattutto Ecco Cercherò di vincere La battaglia Ok Va benissimo Così Ragazzi Va benissimo Così Ok Facciamola Rotolare Giù Andiamo avanti Ora Io non so Se andare ad affrontare Questo boss Che voi vedete Qui No Oppure Farmi I fatti miei Perché Non so Effettivamente Quello che mi può Aspettare Qui Cioè Tutto un effetto A sorpresa Io non so Se affrontarlo Meno Ditemi voi ragazzi Voi mi dite Prova Eh ma non so Di che livello Potrebbe essere Non so Veramente Di che livello Potrebbe essere Allora raccogliamo Tutto qui Innanzitutto Dai Raccogliamo Tutto qui E ora Andiamo Andiamo Dai Andiamo Io provo Ragazzi Non vi assicuro Che riusciamo A batterla Perché Questo non posso Assicurarvelo Quindi Però ci si può Provare Insomma Qualcosina Si può fare Qualcosina Si può fare Qualcosina Si può fare Io ci provo Quindi Qualcosina Si può Tentare Ragazzi Qualcosina Si può Tentare Ok Ok Qualcosina Possiamo Tentarlo Qui Eh Sì Ma credo Che possiamo Abbatterla Credo Che possiamo Abbatterla Sì Sì È fattibile Ragazzi È molto Fattibile Allontanati Brado Maremma Che bordello No vabbè Qui Ora ce le prendiamo Ragazzi No Dai Non mi rianima Nessuno Maremma Non mi rianima Nessuno Ragazzi Eh Qui si mette Male Qui si mette Male Riproviamo Riproviamo Ragazzi Riproviamo 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 la battaglia Altrimenti Magari Possiamo Scappare O magari È troppo Presto Per affrontarla Questa Battaglia Quindi Magari È presto Per affrontarla Non so Non so cosa dire Non so Veramente Cosa dire Non so Veramente Cosa dire No No Ecco Ci stiamo Riprovando E forse Ora va Un po' Forse ce la possiamo Fare Questa volta Forse Forse Questa volta Si può fare Perfetto Ragazzi Perfetto Siamo riusciti Nell'impresa Ora possiamo Proseguire Con la nostra Strada Sperando Sia la strada Giusta Ecco Perché Ho un po' Di dubbi Al riguardo Ecco Tutto qui Ragazzi Solo Ecco Aspettate Ah ok 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 Va bene In questo modo Va bene In questo modo Andiamo C'è qualche Forziere Qui Non Non credo Non credo No forse C'è un forziere Ho visto Sì sì Eccolo qui Non so Cosa ci sarà Dentro Ma Qualcosa C'è insomma Stivali Vabbè Poi vedremo Di cambiare Un po' L'equipaggiamento Magari Se stiamo saliti Un po' Di potenza O meno Allora Andiamo Qui Perfetto Ragazzi Eccoli Vedete Che la strada Quindi qui E' giusta Ed è giusta Sì ragazzi E' giusta Sì Che bordello Qui ragazzi Che bordello Per trovare Questa direzione Va bene Ci siamo riusciti Va bene E così No Da che parte vado Scusa Ma qui c'è qualcosa Ok Andiamo Nella direzione Opposta In modo da far La missione Come si deve Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Sì vabbè Cosa ti racconto Qui ragazzi No no Vabbè Sono Sono assurdi Qui ora Sì Che sia giunto Il momento Di livellare È giunto Il momento Di livellare Ragazzi Credo Credo Proprio Di sì Ok Perfetto 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 Vediamo un po' Vediamo un po' Qui Da parsi Che battaglia Ragazzi Ok 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 Allora da che parte andiamo Andiamo da questa parte qui Vediamo un po' Oh eh Sì Credo che siamo arrivati A destinazione Quindi Di Sì Sì Non c'è stato un po' di più, non c'è un po' di più. Ok, vediamo un po' Fai rapporto alla taverna Facciamo così Magari abbreviamo un po' La strada Vogliamo dire in questo modo Allora No No Ora bisogna tornare qui se non sbaglio Se non sbaglio ragazzi Perché posso anche sbagliare Non è che Il vostro bradone Può anche sbagliare Non è che Faccio tutto perfetto Io ragazzi Posso anche sbagliare Ok Ok Perfetto 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 Andiamo giù Cerchiamo di ritrovare la strada No sicuramente non mi fermerò a combattere contro questo Per il momento ragazzi Poi Più avanti qui bisogna livellare come si deve Allora 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 da che parte bisogna andare Alla taverna ok Vediamo un po' Credo che è qui Credo proprio che sia qui ragazzi Eh si eh si ci siamo ci siamo ci siamo Quindi completiamo questa missione Completiamo questa missione E così vi siete divertiti Non potete lamentarvi Ecco Non potete assolutamente lamentarvi Perché vi sto facendo una missione Un gameplay veramente come si deve ragazzi È un gameplay con i fiocchi questo Eh Ci sono stati un po' di intoppi Per trovare la strada Ma Succede Sono cose che possono succedere Ora andiamo alla taverna E vediamo un po' di risolvere la questione Ecco Ok possiamo parlare Credo di sì Ok dobbiamo accettare l'ultima missione Qui Accettiamo l'incarico Perché bisogna accettarlo Altrimenti la storia non può andare avanti Questa è la storia non può andare avanti Ok adesso salveremo la partita ragazzi E nel prossimo gameplay si andrà avanti Perché è durato abbastanza questo gameplay Ecco Io la vedo in questo modo Quindi possiamo salvare Spero che vi siete divertiti Sempre in compagnia del vostro Diablotex Io vi ringrazio per il supporto Continuate a seguirmi sul canale Lasciate un like Che ci divertiremo sempre di più Un saluto a tutti Al vostro Diablotex Appuntamento con i prossimi gameplay Ciao Brak and roll Sous-titrage ST' 501